Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, come va? Come va? Grazie al chmuse Grazie, bello Chat, consigliate al capo una bella marca di cialde per il caffè? Un bong caffè Un bong caffè, sì, per fare sia uno che l'altro Allora, c'era la pace di partire Ma due giga Ci sono quelle della Toraldo, confermatevi in chat, che ne ho sentito parlare stra bene io della Toraldo Il caffè Moreno, ormai il... come si chiama? Il testimonial, il team Borbone ce l'abbiamo già Solo che stanno finendo, volevo provare qualcosa di diverso Grazie Stefi No, il problema della Borbone, che non è un problema della Borbone, ma nel caso nostro È che tipo, Franci vuole il caffè molto intenso, io ultimamente no, lo voglio un po' più cremoso, più soft Ci sono diversi tiers della Borbone E infatti... È l'unica che fa le cialde e te le impacchietta nel cosino di carta che vuoi buttare nella carta E infatti è stato fighissimo, perché le abbiamo messe tutte nella carta e buono no È l'unica che è... Se no Franci si è fissata con le Barbera Però non sono in sconto Barbera sono quelle che mi ha mandato di Pikachu, che era buonissimo in realtà Beh, era buonissimo però la polvere, la cialda non so se poi è uguale Grazie Druidots Grazie Druidots Perché non è in sconto, per quello lo stiamo prendendo Perché la Barbera non è in sconto A due Black Friday dovrò approfittare una marea, devo comprare tutto Minchia, devo fare una spesa allucinante Che cazzo dovrei comprare io? Sul trenino, sul trenino No, nel senso, uno che... Cioè, uno cosa si deve prendere? Eh, le posate? No, a parte quelle robe lì Sì, microonde, volevo L'aspirapolvere L'aspirapolvere, la macchetta del caffè La frigitrice d'aria Per forza io Quella magari si può prendere un attimo dopo E basta, teoricamente Io sto usando molto di più la frigitrice d'aria Le tiende non le prendo su Amaz Ormai Allora, tra i due anch'io ho più la frigitrice Eh, forse allora prenderebbe Il cuscino Però il microonde è comunque sempre utile Tu vuoi scaldare un attimo un tè al volo Eh sì, devo dire anche se ho avuto uno spazio per mettere tutto Comunque microonde Grazie Lach Però vabbè, perché la frigitrice d'aria la usi al posto del forno Bello che si metti il tè, lo versi nel canto Il fatto che il forno io dovrei avere Sì, però Per forza consumi molto meno con la frigitrice d'aria che con il forno È vero Io stasera ho fatto l'illiva scolana Se dovevo metterle nel forno ci mettevo 20 minuti Nella frigitrice d'aria ci ho messo la metà del tempo A temperatura più bassa No, ma quella la voglio prendere Il problema è che devo vedere se ho un posto Teoricamente sì, perché la cucina è enorme Cioè, è veramente gigantesca Però Eh, noi abbiamo un po' di... Cioè, ho un po' ingombrante sul coso Abbiamo un po' di un coso gigante Però non ve l'ho mai passato il progetto Perché, Franci? Non puoi leggere il progetto Perché mi sono svegliato due volte Che non riuscivo a prendere sonno Ah, l'avevi detto Ma tu sei malato Come lo dice lei Sembra che lo faccio abitualmente È successo un paio di volte È un paio di volte Vivi in casa lì da due mesi Ma anche due mesi Ma due volte Cioè, due volte mi sono alzato alle tre di notte A spolverare la stanza dove dormite Allora, il suo gatto mi sveglia e caga in giro Io gli pulisco dove caga Perdonami Ma non alle tre di notte Ti sveglia e ti sveglia Ho capito Allora, se mi caga nel letto alle tre di notte Dico, no, sono alle tre di notte Torno a dormire Ma non ha cagato Mi spiacci con la cacca Mi spiacci con lo swiffer No, ma era per togliere un po' Anche sulla sua testa Sono andato lì un attimo C'era un po' di polverina Ma è lì nella cuccia Di pipaggin Ma è un gatto E adesso ste scuse Dai, apriamo Party Animals Che ho voglia di picchiare Eh, si è incazzato I nostri sub poi, eh Chatt, aprite Party Animals Che vi spacco la faccia Brutti schiffa o sì Allora, ecco qui Ecco qui No, ce l'ho su Steam Party Animals C'era un oracolo, Marco Perché non l'hai fatto? Faccio subito di Pulischenko Che dice Caro termoracolo Oggi compio 27 anni Che faccio stasera per festeggiare? Non ti preoccupare Quando c'è da preoccuparsi Stai a casa Sì No, c'ho una patch di Party Animals Che sta finendo Vabbè Ah, quindi sono da solo? Eh, dammi Cinque secondi Non sono cinque secondi Sono due minuti Però Vabbè L'hai appena inviata Quindi, infame Cosa? L'avevo la pancia Sì, sì Ho detto adesso Che ho avviato Era dura? Era acqua dura? Appena di calcare Era un po' tosta, sì Dovevi vedere se c'è qualche Ho una domandina Per chi viene alla GameSuite Chi sarà lì già dalle nove? Cioè, chi ha preso il biglietto VIP Tipo quello che ha preso Jibo Come si fa a vedere di quando era la patch? Dalle undici? Ah, perché veni un po' più tardi Ma giovedì 16 novembre Se avete preso il biglietto dalle nove E se sapete Costa di più costava di più Sennò non ha senso che venite alle nove Se poi è entrata alle dieci Brava Daniel Brava Daniel Eh, ma Yusa Ma devi vedere il biglietto Perché l'ingresso ufficiale è alle dieci No, entra un'ora prima Chi ha il biglietto Che entrava prima Entra alle nove E chi ha il pass Sì, il vantaggio è che ti fai un'oretta Nella tranquillità Hai la coda solo di chi ha preso il biglietto Più costoso Che si spera E ti giri la fiera più buona E ti giri la fiera velocemente Senza tutto il casino Quindi alle dieci ne vanno No, non penso Eh, sì, perché Poi la gente Se sei interessato effettivamente Hai gli... Tipo io quest'anno voglio andare per gli stand Che devo prendere dei numeri Andarli a cercare E ci metti un po' Se sei già dove andare Puoi andare subito Senza coda A meno che ti fai tutta l'ora in coda Fino alle dieci E va Vedere Io entro alle nove Ma unicamente perché È l'unico modo per vedere Decentemente la fiera Ma io entro alle nove perché sono Vado con Gibo e Vector Che non entro alle nove Quindi Io sto pensando se unirmi a voi Allora, posto c'è In macchina È stato detto No, non per la macchina Al massimo vi raggiungo l'infiera Delle trenta prime E che ci dobbiamo svegliare È un casino prima Noi entriamo alle nove Cioè io e te e Mark Anzi entriamo ancora prima Perché noi No, ma no Ah, è vero che Franci non può entrare Niente No, Franci non entra Vabbè Franci Ma Franci Ma comunque a Franci Lico viene Comunque andare con tutti gli altri Perché anche gli altri Non entrano alle dieci Entrano qui No, Franci viene con me Ma tu non vai Che no Tu hai il pass Perché no Sì, ma comunque Siamo lì con tutti noi Esatto Gli ingressi sono diversi Noi arriviamo tutti insieme Sì, ma a parte che tocca Vedere quanta fila ci sarà Io comunque con Franci Ci devo arrivare in fiera Quindi tanto male Che arriviamo Quando può entrare anche lei Che arrivo Quando lei non può entrare Si fa un'ora ferma Già l'anno scorso poverino L'ho rivista tutta sbiancata Dopo tre ore Poi noi entriamo alle nove Ma infatti Come al solito Alle dieci e mezza Io volevo solo valutare Eventualmente il venerdì Ma comunque Franci Non può venire Quindi mi ritroverei Comunque come un pirro Se vuoi Mi devo fare sotto il piano Devi dirmelo Devi dirmelo proprio Perché se devo venire Hai fatto? No, infatti Alla sto creando Sì, perché dimmelo anche giovedì Però me lo devi dirmelo Io non so perché Continua a dire un minuto Da un minuto Per il momento Arcade? No Io entro così Plopus bannato Sta scrivendo in chat Non capisco perché Memis Plopus Io veramente non Non ho parole Per questa affronta Ecco qui Oggi iniziamo da quelli sportivi Quei titoli e quant'altro Si possano già provare Ah ma tu pari di videogiochi Però Fer Ttoli Sul videogiochi Non mi sono informato Per provare Scusa Io ormai vado per Non c'è nessun gioco Tutti i giochi già usciti Manga, fumetti Autori Autrici Questo mi interessa a me Per il resto Me ne sbatto proprio le falle Tanto videogiochi Ce li abbiamo già noi In anteprima Adesso non per darci Un tono Fare i figli Però Il gioco devo provare In anteprima Io Ce lo danno Ce lo danno Da prima Ma non ha giochi in uscita Non ci sono anteprima Ragazzi Cioè l'elenco di giochi Non ho visto mezzo anteprima Cioè considerate che In giochi PlayStation C'è solo Spider-Man Ma per forza Non ci sono giochi in uscita Adesso no Sono usciti tutti adesso Invito Dario Moccia Anche per Ricambi il favore L'altra volta che sono andato io Anche perché È uscita Avatar Ma non esce adesso comunque No No è vero Esce adesso Altro che Esce adesso sì La settimana dopo Sta grande anteprima Non so neanche se c'era A Luca c'era Prince of Pers Magari quelle lì Potrebbe essersi Avatar C'era l'elenco Se cercate c'è già l'elenco Io vado per Doglia Motivo per un altro Vabbè Non devi provarlo prima Comunque Doglia Quindi il discorso vale anche per te Aspettate a entrare Vieni qua Accetto Ma Luke c'è Puoi giocare con noi Ne abbiamo detto No Penso che ci veda Stiamo giocando Eh non lo so Dipende Luke Non lo sentiamo mai Sì Animal Ma io dopo è scontato che lo sa Ma effettivamente Non lo sa Eh no Se non glielo diciamo Effettivamente In caso Ci prendiamo Uno della chat Che fa da nostro Fisso partner Ho appena scoperto Una cosa incredibile Non lo sapevo Eh Puoi cambiare le ossa Con i soldi No vabbè Come fai Sotto Eh sì Clicca sulle ossa E ti dà la conversione No sui soldi Non è vero Ti cambia i soldi Ah no Consumi i soldi E che sembrava sopra Perché aggiungevi le cose Ti danno i soldi a gratis No Ah ma perché devi scrivere qualcosa Ma Ferro Ma scrivi qualcosa Più che altro Su Sugli artisti Perché sui videogiochi Che devi scrivere Delle fiere ormai Ma c'è il detective Poi se te l'hanno Se devi farlo Perché il lavoro E ti hanno detto Falo Io ce li ho Bellissima Quasi la prendo Però c'ho il sit Io ho il gatto sit Cioè adesso Oggettivamente Che caspita A parte Ormai Alle fiere Alle fiere in generale D'Italia Si va per I fumetti E per la figa Per i videogiochi Ma mi fai un articolo Sulla figa Per i videogiochi No Adesso seriamente Uno che ama solo i videogiochi E gli interessi dei comics E va a un comics Che c'è di videogiochi Per cui dovresti prenderlo lì Niente Una volta facevi il preordine Che costava meno Ma adesso che cazzo No Una volta c'erano anteprime Magari per gli indie C'è qualcosa Eh forse qualche indie Ma Cioè Vai per i comics E gli eratori Orio Sloggia Pulisci Il GameSwick è solo Castumico Vabbè no rimane Pagliato compleanno Solo che la paghi Comunque il doppio Anzi Esci Fuori Devo iniziare a cagare Però No Stai uscito per davvero No Piccolo Puliscienco Io che non c'è però Dai dai Puliscienco Stava aggiornando Stava Io mi ricordo a Romics Di sei anni fa Che facevo offerte Sì ma Anch'io ho preso Qualche offerte Mi è capitato A livello videoludico Che poi è andata A finire malissimo Ma magari quello Non so C'è qualche partner C'è quest'anno Di Euronics Mi pare Sì C'è sempre No forse GameStop GameStop Sicuro no Sicuro? GameStop non c'è Sono sicuro Allora Se c'è Euronics 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 Perché no Perché hanno fatto parte Di sicuro Se fanno Se un'azienda O comunque un gruppo Fa Una partner Con Euronics Di sicuro Non la fa anche Con Media World No di solito Il negozio principale Vuole l'esclusiva Il negozio Che vuoi fare E non trovo Ci vuole una mappa Non è ancora uscito Dove uscire In inizio settimana prossima È un po' come dire Cioè se io voglio Metto sotto contratto Una squadra di calcio E quella squadra Vuole l'esclusiva Non posso invitarne un'altra Che presuntuosi No no ragazzi Si chiama È sempre stato così Pretestuosi Vabbè comunque Non è comunque Pretestuosi Si fa così Si fa così Cioè devi avere Scusi Le metti uno Da una parte Uno dall'altra No ma è sempre stato così Qualunque evento grosso Che è un solo Si fa così ragazzi Uno piccolo nel mezzo Che fa Euronics Che fa Easybank Euronics Come partner Ma easybank Ma le dà un fuoco Dopo quello che hanno fatto Sono lì per prendere le botte Io tra l'altro Devo scrivere alla mia banca Dicendogli Non voglio Cosa? Perché c'è il passaggio automatico Io non voglio Easybank Eh sì Eh sì No non è Non è easybank Ma è Non è già stato No come si chiama È un altro Qualcosa del genere Ma non mi ricordo come si chiama Era tipo easybank Ma non era easybank Era easybank Era la tua No in teoria si può chiamare Ferro e dirgli Non lo fate per favore Teoricamente sì Però ce l'ha già fatto Però lo devi fare Prima di febbraio Mi pare Aprile febbraio Si sono lamentati tutti comunque Perché loro hanno dato l'avviso Tipo un mese prima Una settimana prima E non era neanche così chiaro E quindi tutti sono passati automaticamente Però adesso ha ammesso Che lo puoi distrire Eh Lucas is Poggers Dicevo ragazzi Eh Avete fatto gli acquisti A questo Black Friday Io sì Ho comprato Pensate un po' Le pantofole No Non fare il dito meglio Sei zitto Che sei tu Perché noi possiamo vedere Perché ovviamente Arrivano le mail E lo vediamo Cinque minuti che devo aggiornare Ha scritto Luke Allora Vedi anche il giro Tra l'altro le deve prendere Eeeh Effettivamente non ho pantofole Come cinque minuti che devi aggiornare Che lento è Comunque ho preso Anche io ci ho messo Quella cifra lì alla fine Non dovremmo fare il comando Non dovremmo fare il comando in realtà Vabbè Certo scusate Aspetta ve lo spando Potremmo fare anche il comando Effettivamente Sì Oh Questo qui è l'Excel Comunque ho preso Le No i pentoli Io ce li avevo già Ve lo consigliate Io ce li avevo già Eeeh Ah ho preso La carta forno Per la frigitrice ad aria E La Il coso in silicone Sempre per la frigitrice ad aria Poi ho preso Il Una coppola Nuova Che non mi stringa troppo Perché l'altro un po' mi stringa Ma che colore l'hai presa la coppola? Quasi uguale Praticamente Sempre grigio scuro Ah ok Perché grigio chiaro Poi diventi veramente No Ho preso grigio scuro Ti mettiamo con Andreotti Ho preso anche una cuffia Un cappellino Tra l'altro ricordo Una cuffia Ricordo Il cappellino Ah è ok Anche quell'impasta Che ci seguono su youtube Un saluto a quelli che ci seguono su youtube I link Noi diciamo Dov'è il link Dov'è il link Voi li trovate sempre in descrizione Anche quello Dello shop Nella Se andate poi a recuperare La live Ricaricata Delle Delle offerte È stata messa in descrizione Ma comunque in descrizione C'è sempre il link Per acquistare su Amazon Quello c'è sempre C'è il link tree Dove ci sono tutti i nostri link Quindi andate in descrizione C'è tutto Se volete il link Con le nostre Selezioni Delle offerte Recuperate la live Di Amazon Che è uscita O uscirà domenica In base a quando vedete Credibile Ah ho messo anche su Qui I nostri Preferite di Amazon Ho messo una configurazione Di un pc Si chiama un pc Molto budget Costa 1050 euro Ok I primi Quattro che si uniscono Ragazzi Via 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 Però è un bombone È un bombone Di pc Comunque Ciao sergione Sergione E' venire alla game suite Ecco colo Fobos Acherus O Acherus Va menato Dali Pulischenko In Spectator Poi entreranno La volta I prossimi due Saranno Dali e Dali Pulischenko No ma Acherus Va menato Va menato È quello che odia Valerio Lo odiamo tutti Ma fa bene No lo odiamo tutti Per Come si chiama il gioco Del Si l'altro Il fake Colin McGregor Mi pare Non mi ricordo Come si chiama Il Il Foto c'è l'altro Su bombone Piccicchie Proponi Sì Sergione Mi ferisce Crab game Crab game Si Foto c'è l'altro Ce li fai girare Abbastanza tranquilli Poi Se devi farci Dipende da cosa Ce devi fare Su photoshop e lightroom Però Ah partiamo subito Con uno sports Ho messo prima I tre sportivi I squadre E poi gli altri Se ti serve per fotografia Non è che ti serve Chissà Grazie Dokex Grazie mille Dokex Fatemi prendere me Il papero Ho preso la skins Io prendo la mia Lontra Con il dorsale Grazie tesorissimo No perché non me la presa Non è quel papero L'altro Che bello Grazie o rayon Se alla gran mia Kerus Viene succherata Oh è lokei Aia Come si giocava Non mi ricordo più Non rompere le palle Che qui dobbiamo Lavorare Aia Non mi ricordo I tasti Questo sono io Non so perché ti sia cadito Su di me Riempendomi di pugni Ma io ero con te E di nuovi tasti Eh ma le hai testate su di me Scusa Come si fa Guarda Guardalo nell'angolo Che mi mena Senza senso Ma si Il primo si dà di vantaggio In faccia a me Lo devi dare di vantaggio Normale 5-6-3 Aspetta aspetta Ci penso io Che torno Il king Ah io Ma regà Ma regà Ali mortacci tua Oh 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 Eh Due anni Ma bellissimo Quella di Luke Ma che figa quella di Luke È un vichingo Ali mortanguerriere Davvero eh Madonna Mortanguerriere Penso io Calesse Pensavo fosse amore Invece era un escort Ah io Ma che ero Sovramente Uno stronzo Adesso Lel Io si avevo calciato Sì a te E si era qua Adesso vi strappo il pigiama Dai che li ho bucati Buttaglielo al culo Anfamone Capelli Nel culo Ahia C'è il mio cadavere Non puoi passare Arrivo adesso Con un tiro pazzesco Oh Bancolo Crossa Crossa Grande cross Peccato Non ho tacciato Due zughie Guarda che lancio Eh eh Pensavo Riputalo più in mezzo Alel Che sotto Grande lol Occhio che a Keros Sta solo menando Sì Ma fatica Non può sciucare Keros Aspetta un attimo Che me la gestisco io Qui Pum Pelle 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 ossa Ostia Colo Godo Cazzarola Ah me l'hai tirato Adesso ma va bene così Eh tanto Ahia Però sono morti tutti due Oh merda Che è su Keros Dai Via Vai Agli Ezzar Che voglio più Che siamo Nuk Sono incastrati Beh Cosa è successo Che è successo Arrivo Alla pallone qui Che è troppo equilibrata Pelle o pelle Marco Ehi Ti Aia nel culo Su mio cadavere Proprio Aia nel culo Aia Nonna brugola Hotswallis L'ho tirata contro il loro E bacanculo Via Che botte incredibili Botte da ostie Ah Una partita non entrerà mai ragazzi Ok Adesso la facciamo entrare Adesso la faccio entrare io Vado vado Guarda che paletto Dai Pettine Non ho preso Grandi Con la finta Con la finta Chiaramente Non è quello Giros Su Kakerus Entra Ho fatto Tachan Qui eh Bastiale Adesso ci ripichiamo Tutti più ben nuovo Lass Ancora Ho fatto liscio Ma che figura di merda Via Ho fatto un piccolo saltello Magari segna balotello Parata Incredibilmente Guarda che tiro gotico Guarda che tiro gotico Pessenti Vai Che bravissimo Chiedi qua Diego Diego Ah 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 Guarda faccio il tiro Del cantante prediletto Palle Non mi avrete Sì Tiro via il portiere Dai dai Ho tirato via il portiere Ho tirato via il portiere Porto via il portiere ragazzi Lo porto via Vai vai Lo porto via Lo porto a giocare gaccia I suoi gaccia preferiti Sto scemo Sto scemo Buttateglielo dentro L'aglio rubatolo Mi rimasto lo scudo e basta Penso io È sparita la palla Che tromba ho sentito Eh l'ho fatto il Perry Carcassa di sesso Perrie Vai vai Sì Sì Mi sta facendo brutto Ciao Donuts Che è legale E' tutta una tattica Gandhi Oh porca bestia Ha rimbalzato su di me Mi si è rivoltato contro Pego E dai L'ho preso Pugno del gol Ho ruociato il portiere C'è un altro Fottete via L'ho fatto di gomma No me l'ho parata L'ho preso lo tengo Lo trattengo 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 il cane ciccione Devo spartarli Aia mi prendono per i peli del gorilla Pego Lasciami Ah va fanculo Sono sotto No Aia Liezar No 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 Noi non abbiamo il pollo Vai Luke bravissimo Dai Vai bravissimi Tengo il portiere Fate Oh no lo tengo Vai Bravo Liezar Sì Godo 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 Come Godo Ragazzi la tecnica è giusta eh Ma che morobara Che morobara Eh Che morobara Ma che faccio il lavoro sporco Si chiama sport Si chiama lavoro sport Piuttosto Oh la la Oh la 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 To Oh no Dammi qua Li porto di via Marco ma perché hai tirato un pugno a me Eh anche a lui però eh Ho fatto tutto a due Ah Ragazzi Yeah Che russi Ah Guarda Come Godo Vedi a badare qui A badare qui a non difendere la tua porta Come Godo Guarda Guarda Pugno da che russi gol Che goduria Mamma mia Come Godo Ragazzi Mamma come Godo Piccoli Patti Mi sono colpito da solo Chiedo scusa Chi è? Aspetta Ah io Marco Eh lo so Purtroppo è rimetragito Chi è bambino? Che pugni Eh vaffanculo al portiere Ragazzi ho ribaltato il portiere Ah Ci sono Salvata La sparo Mi fa il perry Fermiamoli No Ma dai Che schizzo Che schizzo ragazzi Non era ligabue Però poteva essere Che schizzo qui All'incrocio dei peli Anzi Io cerco di liberare la porta Ma tocca che la portate Perché? Che violenti Oh veramente Oh Cartone a uno Bravo bravo Ho ucciso il portiere Ho ucciso il portiere Mirati su Dai mi hanno ucciso anche a me Ma che fa le motte del gattino pirla Mi toccano le palle Posso fare le motte? Sì 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 Ma ho distrutto il portiere Gratuitamente Non volevo così tanto No Paolo Gozo The King La prima ce la siamo portata a casa È stata dura ma ce l'abbiamo fatta Eh guardaci qua Voglio anch'io venire nella foto Via tutti Aia le botte Vattene Via Ah bene Non ci sono neanche No niente Ma che è quello in fondo C'era un pezzettino Marco dove vuoi venire Non mi ricordo cosa ho detto Scusando Non c'ero io Dopo questa cambiamo però già Persone che se no Non cambiamo mai mi rompo le palle Vuoi giocare con un sacco di gente Io Eh ma perché non c'è mai una partita conclusa Me ne frega niente Questa era conclusa Che se no passi più tempo a invitarti che al Non importa scusami Marco Ecco qui Ma Pego è seduto triste poveri Prendete sto pazzoide pirla Phobos Ma Phobos Ma che fai Ma che Eccoci qui Grandi Ahia Luke Arrivo Ce l'ho Parla Marco Non di lì Non di lì Non di lì Marco Ma che cazzo fai Ho sbagliato scusate No ho colpito il cavo Guardate 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 Scusate è colpa di Phobos che ci stavamo menando di live Mi sono perso Colpa di Phobos eh Eh certo Scarico tutto sul Phobos Sì Mi sono aspettato da uno scimmione Vabbè Via dai Mi è nato un po' di gente Mi rifaccio Prometto che mi rifaccio eh Dai 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 Grandi Grandi Bello Renato Zero Grazie Ho fatto anche un Dribbling qua Traversa pene hai fatto pur Che game Che game Fatto al Bernabeu Non mi intralciate Andiamo Moro Faccio da Guardare il colon Aia mi han preso Ma la palla ce l'ho ancora io Tranquillo Ho picchiato anche Grandi Grandi Eh ma si fa così Si fa così Eh ragazzi Ma è così eh È così Anch'io mi ricordavo al Camp Nou Camp Nou Lo stadio del Barcellona Tra l'altro Vai Moro Ti faccio la guardia del colon Vado vado Scusa Questo è il Jezzer Non lo voglio Via via Scusami I capelli Ah mi hanno toccato Via Rotola via Rotola via Phobos Mattene Ah cazzo Dai rialzati Marco Lascia la mano La palla No la palla Marco Andiamo Jezzer Vai 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 Oh Vai Dribbla Dribbla L gia la su Lange la su Ok Grandeे pallone Ho fatto un assist Vai Jezzer Vai Jezzer Siiii Il godox Raval Elle ma siamo dei campioni Ah si ho Ho melato tutti Quelli che si avvicinano Moro Anche Liezzer Che tridente Milan dei brasiliani qui Vado Dai dai Tranquilli ci penso io a eliminarli tutti Aliezza questo sono io Eh vabbè sto eliminando tutti Vedi Batti di gioco Aliezza sei tu questo Allora Levatevi Mi tengo la squadra avversaria Aspetta che porto via colo Che miseria Prendete l'infame Mi hanno derato un calzo in cu Tirala via Mi hanno preso per il pene ragazzi No No Bloccatelo Tre sono qui ragazzi Tirala su Come si tira con la X Mi buttano in cubo Con la B forse No No Ci hanno schiacciato in testa ragazzi Lanza fame ho letto Si lanza fame col ucci Chi è? Era la Juve credo Cioè lanza fame era della Juve Poi ha fatto Tanto in giro Lassamela Lascia ma è mia Mortacci de pippo Mortangurelli Sono tutti lì Ma quanto durano I mortanguerrieri M'hanno corpito Mortacci sua Ed è sul mondo No lanza fame non era reale ragazzi Non era reale? Lanza fame non era real Non credo proprio Ci stiamo distraendo però Si si no Concentrazione Ho desiderando che uno Praticamente gliel'ho fatto io Marco questo non è una palla È un scimmione Vai Moro Lascia lascia Liezar Eh mi hanno messo in mezzo Mi tiene il culo Mi tiene il culo Liezar corri Vai Liezar Arrivo a darti una mano Ma che fai? L'ho menato anche lui però Eh Arrivo Tuccia Tuccia Vado Andiamo Via Andiamo K e te Mi stanno tenendo qua Sono in due Vai Dribbla Dribbla tutto Dribbla tutto No devi dribbla 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 Dai Carote Vai Liezar Vai Liezar Non è niente Non significa nulla carote in cane Buttala Che fai? Eh ho perso la stamina Eh Devi lanciarla prima di finirla Mi sa che non è la B allora per lanciarla Non è la X Oh porca paletta ragazzi What a roll Oh si Mi ha preso a me No no Toccategli l'anno Ah Sono riuscito a colpirne solo uno È più bello di Pedro Pascal Lanzafame Non lo so Non lo so Perché è brutto? Io sicuramente Io sicuramente Tocca a nà eh Tocca a piottà Tocca piottà tutta a dritto Cazzo mille che ero Marco vai Dai 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 Tutta Marco vai Vai ragazzi No ma l'immortaggi tua Ma non c'è nessuno Non c'è stava Niente lo stava prendendo me Per forza Vado Ahahah Bella Sono l'uomo degli A Io voglio fare gli A Dai che stiamo a pareggià Stiamo a pareggià Non fermiamoci qua Non fermiamoci Bella Ora come è passato dal tratturinario L'ottimo lavoro Non è via via Nemo Poi tra tutti quelli che potevate dire Vai Moro Che lancio molle che ho fatto Via Vai No Marco l'hai buttata Marco ma fai contro Fai le cose Aspetta mi sono giocato la morte qua però per difendere Ci ho rimesso la palla Ah mi è caduta la palla La panculo Marco buttala Buttala Vai Andate andate Azz Che è che è Vai gli zanzi Uppalluni Uppalluni Vai difendo Vai Via Sto merando tutti loro Andiamo Ahia Luke Non c'era necessaria Oh ma tira Mi tira La prendo io Vai capitano Er capitano Totti 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 Marco ma c'è le mani da merda Eh mi è finita la stamina Aia Marco lascia me sta palla Corro Vai vai mi sono preso il cartone Vai moro Anche sono preso il auto Eccolo Questo è un gioco di squadra Marigama ma che abbiamo da fare chi è marianella so chi sia marianella ragazzi round 10 dai e coro coro da me sta palla da me stava ai mortacci tua l'immortal guerrieri l'ultimo minuto e la tiro ma che vuole fobos a un arbitro alimortacci tua mori che non vi fate fregati non fate fregati la pia la vita la vai vai moro lezzeri presso il cappello pronto ma che gioco di squadra mamma mia questa è la vera pizzocchera si chiama così a napoli questa non potevate farci niente ragazzi mi spiace ha fatto anche i trickli rabona e gol o tiragir ha fatto mi pare la metagir scusami alianor ma mi piace questa wave romana ormai eccoci eccoci voglio fare la foto del presidente della repubblica per un minuto eccomi sono ancora dentro l'inquadratura col culo guardate che bel culo che ho ma io no sono di culo ragazzi vedi usciamo usciamo dai secondo gruppo bisogna sempre farli caricare beh questa hanno vinto i termosifoni qui ragazzi direi eh si chi era puli e c'erano Akerus Phobos no che dovevano entrare era puli ah oddio e danni era chi è danni danni chi era danni capotasto eh uscite qua sono infilato anch'io va bene come se live gay il marco tasto va bene non sono non sono chi è corri scappa oh 1500 euro se sgomma ma devo ricrearlo ogni volta si l'abbiamo già criticato la romanità di moro grazie Snoopy grazie Snoopy fai caccaro come perché ma che dì ma che stai a dì ecco qui eh unitevi voi e si uniscono gli altri due e altri due e mi impicchi si qua non si può entrare come no gli altri entrano si si può entrare ma sono sraiato unendoti non puoi e gli altri come fanno scusa e mica si uniscono a te gli altri a chi si uniscono io di steam dico non posso unirmi da steam viene meno comodo ma puli chi è uscito di noi marco sono accettato vieni di qua vieni vieni di qua vieni giro vai via marco devi venire di qua eh l'ho fatto ma l'ha fatto prima lui sei cazzato giro vai vieni di qua marco dai i termo sono dei bastardoni fortunelli ma smettila che vai cagare anche io l'ho dato tanti di quei cazzotti la grande sensazione è di sentirsi pieno eh pieno di schiaffi ah oh a fame adesso questo è lui che esagera pieno di pizze non si possono fare gare miste si possono entrare sia donne che uomini come no beh quindi ragazzi Cribio dov'è il Daniele che devo menare d'oglia e fatemi giocare è scappato non vedi tra cui ma te ho un altro pacchero in mezzo arriva smettila ancora di morso può considerare l'appropriazione culturale ma adesso ne fu dai prima c'era la fila adesso fate cacare e qualcuno penetri faccio appropriazione culturale dal primo giorno che streamo ragazzi comunque la prossima volta che facciamo partire non se voglio fare tra di noi che ci meniamo invitiamo anche corvo e gli altri sì sì io nella 12 ore vorrei rifare ttt sì sì lo facciamo con è morto ttt ormai lizard basta no lo facciamo con corn vale così magari riusciamo a essere abbastanza grazie Enrico Enrico Pollice server c'è beh quindi boh rientri anche chi ha già giocato ragazzi a questo punto rientri chi ha già giocato pausers in 400 nessuno ce l'ha sul passo l'ha comprato beh sul passo ecco qua cazzer dai e partimo ma non è sul passo comunque no non è sul passo è sul steam no lo metteranno da xbox anche sul passo sì oppure ci giocheranno oppure ci giocare no neanche in cloud da pc non ho capito come si entra dovete cercare la mia partita entrare sì semplice quando dovete fare a 12 ore e non so a ridosso di Natale o la settimana prima di Natale pensavo nel periodo in cui c'è quella cosa di beat perché la cosa con le sub scontate è dopo Natale quindi non ha senso direi la settimana prima di Natale Natale è domenica no lunedì quindi io farei o il giovedì prima o il martedì lunedì bellino il coniglietto anche no no non volevo questa schianza all'anguida vera sta sarà che si fa il moro by night eeeh dov'è che insiro ragazzi sto andando da loro ma è saltato e anche tu neanche a me sono ancora vivo però ma perché come si scusate come si saliva io sono a me a casa ah ecco faccio il sinistro sono tornato a casa ragazzi un riesco un riesco a passare stanotte sono morto facciamo ci abbiamo da provare un paio di giochi in realtà uno sarebbe che è uscita la 1 la 1.0 ragazzi io vado da loro e voi fate qua la 1.0 di backpack hero è uscita guarda che ci stanno frenando il culo ragazzi no non ci sta frenando nessuno come no siamo più indietro no bastardo giro oh puli ali mortaggi fermate sto scemo che palle giro bastardo no hafangool eh metti metti dentro devo mettere il carbone portatemi il carbone portatemi e frenate di quel merda di treno non so non so arrivato c'è il giro di qua che rompe i varu dobbiamo fare backpack hero comunque che è uscito la 1.0 però devo volevo provare anche coso come si chiama no pulischenko no non sto riuscendo mi sta dando un pugno sto morendo sempre vabbè ho volato giù anche in giro vai moro sdraia lì frena frena io purtroppo al primo pugno sto volando via mi hanno sdraiato qui ma non ce la faranno a buttarmi via siamo indietrissimo noi eh sì ma porco giudo ho preso il cartello che c'era in mezzo ma si può essere così sfigati per forza non sto facendo niente guarda che sfiga ah mi hanno buttato ragazzi sono tutti in difesa loro sono letteralmente tutti in difesa comunque volevo provare anche Doomkeeper che è un altro giocatore giustamente adesso basta che stanno in difesa e loro vincono giustamente neanche arrivo saltando ormai arriva a casa ragazzi occhio li freno li freno bravo non ho frenato abbastanza ragazzi che da noi vai marco frena frena vai a difendere si si ho usato giuro non so come frena frena moro ok via fuori uno via hanno buttato fuori due vai lezzard te l'ho buttato lì vai buttate il cardone buttate il cardone vabbè andato giù dai posto sono fuori io uso in tre mi stanno bruciando stanno usando il mio cadavere come carburante ragazzi una cosa terribile io ho sempre il cartello occhio a non bruciarti oppure sacrificati vedi tu dobbiamo tirare il caso ma romenagli ok andato giù io no arrivo eh io sono morto non ci sono buttalo dentro hanno tirato il freno a pezzo di merda doglia vola via di qui sono ripresi il freno occhio ah son caduto le mie palle sono scivolato via io son volato fuori ok gli ho tirato il freno gli ho tirato il freno gli abbiamo rallentati però dai vai lezzard luke buttalo fuori dal ring frena frena non andare tu fuori dal ring vada ok no no tieni cazard guarda che mi usa per ma bastardo giro è sadico giro è letteralmente sadico ah cazard quasi ti portavo con me no dai dai mi ha buttato freno non ho freno stanno per frenare sono in tre no due volte bravissimo luke tira 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 mi ha dato un calcio nel culo tiro io tiro io tiro io eh mi ha buttato su però stiamo vincendoci bravo bucino tutti scappano conigli nel vero senso della parola grandi caser suca yes che recupero per la vittoria buttati nel treno e vincete effettivamente possiamo usare noi stessi come carburante grande con il mio Elvis Bradley ma mi rialzo sul palco mi stavo appena alzando dai andiamo avanti questi li facciamo tutti tanto non entrate vinculate c'è ancora loro che sono entrati eh ho messo solo due livelli ho messo quindi peccato vabbè poi esce oh termosifoni li ha vinte tutte per ora eh ma Marco siamo o non siamo noi gli streamer ci sarà un motivo perché siamo gli streamer noi eh no non perché siamo pro nel nostro caso sicura me però eventualmente ho il calcio ho il calcio che contro ragazzi oh casa non mi tenete le palle caser eh yuk 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 ha fatto autogoll mi sa che yuk non si è regolato classico di yuk l'ha buttata completamente fuori classico di yuk ragazzi guarda 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 qua che interista c'è anche provato proprio yuk adesso ti devi rifare devi fare almeno una doppietta calai io prima ho fatto un errore ma ho fatto fare sta dormendo yuk sta dormendo ragazzi via deviata ti è caser ciuccia vado a difendere vai yuk che sto chialuto merdoso d'oglia che schifo la fa per la con gli occhiali ma che c***o sono troppo belli i personaggi brutti di questo gioco sono troppo belli moro no chi è questo non lo so eppè però l'ho buttata l'ho buttata non me non toccamme non compleanno ha fame oh yuk tiè al volo al bandito cazzo danno ahia porco giuda doglia hai menato sia me che caser grong quasi un criminale doglia violentissimo ragazzi ci pensiamo ezzar col tuo cappello stai attento a non perderlo che perdi poteri vai yuk andiamo risponda cazzo mi ha fatto il cucchiaio riga doglia doglia moro non ho visto che hai provato un cazzotto era per doglia che ride il mezzo ragazzi ho le calo le metà attive rotolo dark souls 2 pettine non ci ho preso eh si col pettine non ci prendi tu l'ho ucciso doglia ho la mutanda nella fendi guarda guarda qua levati moro guarda che tiro bello bello ma come quando entra però questa palla ma il tiro in alto purtroppo non fa gol questo mi sa che dura fino alla fine della live ve lo dico è come una partita vera ma c'è il timer tanto eh che dura fino alla fine della live l'ho parata meno male moro che sei un bastardo nonno ho fatto cacca popolo nei pantaloni allora puliscimi aio ci penso io un elbow drop attacco col destino che schifo la pappa era brutta ragazzi è orribile no no asciugami i succhi guarda yelp pom pom poca miseria guardalo no marco mdmm mdmm sempre ci penso io pom pom no in porta nostra ha fatto una sollevanza incredibile ci arrivo lì ezzaro arrivo aio mi ha dato una papera rinvio papere possiamo ah marco no ragazzi quanti cappotti sono nati vai moro pallonetto otto il paperotto te lo metto e hai il cagotto guarda guarda unfami oh marco bomber sulla fascia a fascio tes fascio guarda ben i carbone parata mi ha dato un cazzotto ma non importa mother fucker butta in mezzo butta in mezzo no eccola eh aio che dolores ma che figura capelli mannaggia lotta grazie surprising manga grazie surprising arrivo eh arrivo ragazzi le spondine non funzionano bene guarda che alto maria guarda che alto che ho preso a me tutte e due ho preso anche gli ezzar nooo beh anche loro vedo che lo scherzano i ezzar andiamo non di là che fai che fai ma sei un pirla luke fatemi tirare a bella devo fare i miei soliti guarda pozzuoli sfemeli tiè andiamo mi picchio d'oglio ragazzi dai è porta pota mi sta papirando mi sta papirando ci penso io calcio ad asimov grazie rockanv grazie mille rockanv grazie rockanv guarda che vince guarda che vince ragazzi devo fare gol ho deciso azza ve lo butto no non è vero guarda sono solo ammerdato gli ezzar scusami ho fatto un grave danno alle tempie ragazzi ancora non è entrata la merda di palla ok l'ha buttata solo luke nella notte beh dobbiamo giocare solo a rugby adesso spingere più di interno spingere 500 andiamo scusa gli ezzar vabbè guarda eh chi è che gli è caduta la corolla qui oh santa marea ci sono ci sono non mollo ahia vigliacchissimo ci sono sempre io fuori non mi fermate lo scimmione lo scimmione prima o poi diventa super saia marco giuda chi è sto coniglio via oh my god lascia mi d'oglia c'ho le mutande incrostate ma perché c'è il rumore dell'orotrack quando fa un incidente la pincio piccolo guarda caselli caterina capa della sugar capello da qualche parte vai ci sono ha menato tutti vai anche il coniglio vai dai 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 nooo che salvatale non abbiamo più le palle ora non ho stamina arrivo io l'ho palata ma non è vero l'avevo fatta ribalzare sul palo l'avevo fatta ribalzare sul palo guarda come l'hai accompagnata bene dentro vedi la vo' pincia ma non è vero adesso devo fare un tiro gran gioco toc toc chi è I'm a bitch ah Luke ci devi un gol grazie obelix obelix 10 secondi non rinuncio non rinuncio nooo vabbè con che cazzo vuol tiro allora via via facciamo a botte tutti contro tutti la prossima dai voglio menarmi tutti contro tutti lo tengo lo tengo tengo sto prosciutto tengo sto prosciutto si dimena si dimena eccomi dietro quasi cos'era un cerchietto lì cos'era un cane in orizzontale era il collare del cane che era in orizzontale il cerchietto ragazzi mi fa male la lol dai tutti contro tutti dai dai che è ragazzi in straight hate c'è il dux non è grazie gran adan ma io faccio il cucchiaio ooooh aia mi ha scorchiato il polso ma chi è ciawami chi sei non c'è nessun lux in chat palesemente ma si ma poi lux di league of legend chi è sto bimbo minchi avanti fatti vedere ripeto lux lux tt chi è tt scrivi in chat chi sei didentificati oh entrate oh anfami è dentro sei nuova entrate questa è tra i treni del coso la stand a coppie no 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 tutti contro tutti può stare in realtà no ci contro tutti dai entrate entrate ragazzi rientrate pure se non è nessuno che scrive in chat io lo chicco ma credo sia qualcuno in chat ci risponde che scriva però scrivete chi siete non è lui comunque lui è doglia è stato pulischenko si rientrate comunque tanto se non entra un cazzaccio di nessuno ok lux però oh palesati per favore ti chicco giù veramente veramente vabbè figgitrice questo non c'entra eccolo eccolo dai parti solo a minacce però si può andare avanti in questo mondo di l'amici voglio giocare con voi eccomi no devo pistolarlo non c'era ah è perché quella di Halloween ok bello c'è una mappa nuova di Halloween qua ci si mena c'era l'evento di Halloween l'abbiamo soltato a botte o cos'è il cattivo esegui vieni prendere il sit di chi è quel meme Marco dici un po' di chi il di Dario almeno io l'ho sentito da Dario poi non so se è vero che è di Dario ormai i meme dell'internet non ci hanno un padrone le dice uno lo iniziano a dire tutti a catena lo dice Dario lo dico tutti a catena è diverso ma Dario ha sai com'è i soldi no è quello però quello è il serio di Vanette non c'entra niente metti in serio in quel modo oh porca peste chi è chi è questo qui è l'infame di Doglia subito a tordo aio ma cosa cosa vuoi fare non so se è la modalità no si è modalità però perché ci sono due fantasmi ahia mi è cagato il collo ahia a giro no beh credo sia la solita modalità che faccio con la torcia qui cioè la devo la devo piazzare da qualche parte o beh io ho eliminato uno eh ah no sì credo sia una normalissima modalità che giro eliminato ah ah ho corpo di mille quanto veloce ho è un tarantolato quello ma non so ahia ho le gambe ma son partito fuori dalla mappa io oh che strike che ho fatto ragazzi devo fare assolutamente delle cose col pesce eliminandosi si vince vattene 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 oh ma scrolla crolla 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 però si va giù di sotto non si vaglia credo credo che muori ma va che bello però dai ma uno è volato fuori da solo no ma ma no è cascato giù chi è rimasto è luck mi sembra no no doglia ecchice ecchice asturacessi ve qua ambicilli Certo subito Primo cazzo Che doido Cerca di salvare Giro Pezzo di merda Avulshenko Ha infame Però c'ho qualcosa da dirvi lì in mezzo Tutti via Sono il terminetro sto giro Eh ma vince tanto l'ultimo Prima ne ho eliminati tre Ma perché sono due fantasmi Ah un giro e l'altro è Luca Ma ci si congela nella Ah no c'è Pot Cabal pot Chi era Cabal pot Era il pinguino saraceno Azz ma non me la fate buttare fuori Sto anfame de me Ah ah Tu vai a vedere chi sta sopra il cabal Tu devi vendere il pace Alla alla E qua E qua chi è questo poi Luke Cazzo c'hanno Tieni sta bomba Ender coolen Moro ce n'è un'altra Non conviene Oh porc Eccolo lì Però hai eliminato uno Bestia Morio sto Luke Erano i fratelli Capone Prondo Leppa Dogia Dogia Hanfa Hanfetto Hanfa 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 Capelli No son nell'ombra Non mi puoi toccare Ahia le palle di Fra Giulio Dogia ma sempre Guarda che fa Godo dogia Che stava accadendo Si è volato fuori Si Ti stava accadendo Godo Ho ucciso il cane Bisogna cremarlo Aia Ma li mortaretti Inguaiati Guarda Ecco qua Purra bomba Però qua sono invisibili Non mi può vedere nessuno Sono vivo Capezzoli Vergogna Capezzoli Stanno per crollarmi Carcarella Vieni qua Le palle di Fra Giulio Soffia 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 Aia ma io ero lontanissimo Si è volato fuori A quanto ora è in gioco La bomba La bomba La bomba Po 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 Alzati Alzati Dogia ma ero a tre chilometri Guarda questa bomba però Guarda che mortangurelli Moro L'ho buttato Si Però sei Grande Eh ma di qua c'è la sponda Sono grande Sono incastrato nel pene Oh my god Che fai? Oh 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 Ho visto io Che culo Sto cadendo Don Eccomi 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 Vieni qua Toglia Togliete Aia le palle di bombasti Dai Dai Sono fatto di golpe Non sei Ah Sono asciuti a free Eccoci qui Polonio Polonia Chi è? No il Polonio Ah Ero morto Come ho fatto a partire via Il Polonio è un Materiale Un Questo è un elemento Sono senza zucchero Ragazzi Ecco un pesce Eh ma non la sfruttate la bomba però Sei delle pussi Guarda che c'ha un range incredibile Quella bomba lì Sei delle pussi Io vi butto una bella buccia di banana Ecco D'oglia Sì 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 Gododoglia Ci hanno buttato fuori i colpi di balestra a Luke Oggi io lo chiedo Io l'ho buttato fuori Aspetta un attimo che miro un secondo Dodoglia Che devo vedere una cosa Aspetta Grazie Gianfa Ah Ho preso sul pene Grazie Gianfa Vai grande Eh ma Dodoglia è vivo E vai eliminato Vai Dodoglia Scappa Non rugolare Con la rugola Che fai Che pazzo Ubriaco Dodoglia Tieni Dodoglia Ok crolla tutto Con la banana Che è uscito? Ma ha rotolato da solo fuori No no L'ho buttato fuori col pull Non finirà mai Stiamo facendo una vittoria alla volta Giusto che tutti vinca Grazie Raffaele Grazie mille Raffaele Doglia Ma che fai? Ma quindi con la torcia diventi fantasma Ma come serve diventare fantasma? Ma io ti stavo difendendo Moro bastardo Non ce l'ho fatta E' diventato spinacione Quello lì No è la skin da fantasma No perché prima Luke Non era colorato Ah sono caduto Non lo so Eh mi sa Ma no E' la skin di giro di Luke Del fantasma Ah no aspetta E' diventato invisibile però qualcuno L'ho visto eh Eh vedi Ma mi sono Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Ho preso un oggetto in mano E sono partito fuori dalla mappa No mi sa qualcuno ti ha picchiato di invisibile Sì Perché se diventi fantasma C'è qualcuno di invisibile lì Vedi? Ah allora era Luke Ok Ma come si diventa fantasma? La torcia Mi sa di sì Perché ho visto che avevano in mano quella Addios Una bella bomba anche per voi Che andrà sotto Guarda eh Pollon No Valerio Sei veramente in ritardo E mi sono Te lo trovo eliminato sia Moro Che lieve Gons Stupage Vedetele per le bombe Bombe non c'è romana niente Più belle banane No che poi le usano Ci toccano Roba del genere Eh vedi Luke Allora Luke l'ha presa Però non ho fatto nulla Non si accende quella semplicemente Eh ma loro come fanno a diventare fantasma? Devi stare sotto la luce per un bel po' Mi sa Ah forse è la luce che va in giro Guarda che bananina che butto di tattica Questa lì servirà So che servirà Eh le bananine i bordini Vedrai eh non la vedono adesso scivolano guarda Io ci credo Doppia banana così Eccoli Aspetta un bel pesciolino anche lì Eh sta per crollare Ho il scivolato sulla mia banana Lo sapevo che sarebbe stata utile Prima o poi Bomba fa la strage Eh ma Eccolo lì Ecco qui Che è Luke's Niente Ragazzi io non sto rimanendo fino alla fine Sono troppo aggressivo Dove essere più safe In questo topo Non vedi partono già Cioè gira e continua a portarsi la lampada Ah no cosa è successo Ho usato doglia come trampolino Mi son lanciato di sotto Doglia e bacanculo va Avanti Ma che mosso fatto Eh qualcuno è caduto Pulischenko Togli questa roba Ah io sono fatto di cacca Oh va che bella bomba spostata lì Io voglio i punti per l'eliminazione Se no non vinco mai Non è giusto Cosa fa il vigliacco Andate a destra Che si pulisce Guarda Stai Ti ho fatto cadere Luke Godo Madonna quando è morto Non lo so Io non l'ho ucciso prima Salvato al pelo il maledetto Oh va quella bomba che bella lì Yuki come ti sei salvato Cazzo 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 E rola Guarda quando è quello da prendere la te gamma lì Tieni questa banana Opla Chi è che ha buttato via la bomba Io non l'ho tirata Scusa l'ha tirata di sotto Per me è d'oglio No ma è ribalzata a destra Ma che sfiga Ah ma questa Guarda che bomba che tiro eh Guarda che tatticità Guardala Oh porca Marco va giù eh Guardala No non va giù Guarda lì che lavoro Pompare Pompare Cazzo cm Grazie mille cm Oh No Luke sa la seconda partita eh Grazie cm Ecco qui Go Oh oh A pezzo de merda Ma che vuoi Ma che facevi con il nunciaco Il nunciaco mi sono colpito da solo Marco Va andrei Eccoci qua Moro Non mi cagare Non mi cagare Vieni qua Doglia Ai la padella di Gondar La padella dell'Agostina Non potete fare niente Pettine nell'anno Eccoci qui Doglia Eccoci qui Cazzo una bomba Uovo Doglia Sono qui Sono sono Doglia Doglia Povero dog Povero dog Cartella Dai Io no C'è l'altro Cocorico Cocorico Tanto c'è una paletta Tanto una testata nel culo Elettora Sbumare Volato Chi è questo qui Puliscecco Che figura di merda Aia il mio pesce Come Ma forse Ma ha dato un cazzotto forse Non era il mio pesce Si rompe tutto Puliscecco Attenzione Oddio Vieni qua Trenton Oh le palle Eh no Troppo tardi Marco che rischio Ma è andato via Ma cosa scappa lui Lui scappa e basta Ma Oh gogo Eh che cos'è È una Anche Marco Via Dai Me ne bastava vincere una Adesso ho tutto di guadagnare Che fa Beve la pozione Dell'induribilità Luke Attimo lavoro Però forse con le luci Lo possiamo vedere No Che scemo Puliscecco Si è ammazzato solo Vai via Luke Vedo la tua puzzetta dietro Vai via Vattene L'ho preso d'oglia Anche se era invisibile Lì cos'era Non ho messo Nonno foglioso oh all'urlo di nonno voglioso dove puliscienco di buttare il bagno? c'è una bombettina carina secondo me lì guarda che lavoro negli angoli che faccio da apripista è morto morto non mi lucare questo è morto morto dai eh ti ho preso a palle è mascivolo ragazzi guarda che bombazza troppo lontani ma perchè pende sempre a destra vabbè ma è perchè da quando sei arrivato tu valerio il dux non è mai stato in game non era con noi beh dai tieni Luke ti mendo un pesce attenzione Luke e Luke sono a due conviene eliminarla ho sbagliato scusa no c'è quello con il caccia 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 eccoci qui ah vizzi mamma ma non ci prende mai vai via kunillo si viene eliminare puliscienco intanto vieni qua Mettilo giù lo Sturacessi, Mettilo giù lo Sturacessi! Ah lol! Aia le mie palle! Madredizione ragazzi! Oh no 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 no! No 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 no! Maledetto al taser! Oh no! Ma rotola sempre dalla parte un po' stretta dove c'è la gente! No si sta per rompere! Tieni d'oglia! C'è che push è con chi pesa la testa perché c'ha il tuffo dietro! No no no! Chi è? Sempre imbraco! Io sono volato da solo correndo! Questa è bella! Questa raga è bella! Questa! Ma è la seconda volta che corro e faccio un salto della madonna! Vabbè ragazzi guardate cosa creo eh! Crevo un piccolo arte attacco adesso! Niente è un posto così! Ecco qui! Guardalo guardalo forse ci cascano! Luke giro! Vince Luke! Vince Luke! Fortissimo il luca d'arco nazionale! D'altronde tutte vittorie dei termosiphone! No tu hai detto d'altronde! Eh d'altronde non l'ho mai detto! No credevo volessi! Eh pezzo di merda! Pezzo di merda! No credevo volessi lanciare la cosa! Non ho lanciato una sega di niente! Faccia di cazzo! Vabbè! Che dobbiamo fare ragazzi! Io cercavo un assist invece non c'era stato! Vabbè! Amici noi vi ringraziamo per essere stati con noi! Sì! Questo gioco è sempre divertente! Ci vediamo domenica sera! Non mancate! E ricordatevi che c'è ancora il Black Friday! Continuo ovviamente! Salvatevi il nostro link di Amazon! Sì sì! Per ogni acquisto! E questa notte! Chi notti sotto il tavolo! Dai! Boh! Vabbè! Come si esce? Ecco qua! Dicevo a stanotte mezzanotte sempre qui! Vabbè! Vabbè!